L'ho scelta per sottolineare poeticamente un fatto incontrovertibile, e cioè il radicamento sostanziale della nostra cultura nella scrittura, come dato non solo antropologico ma addirittura cosmologico. Se questa citazione affonda nella radice ebraica, che poi sarà anche cristiana, in cui la scrittura è senza mezzi termini, ipostasi e manifestazione del divino, altre recitazioni potremmo estrarre dalla radice classica, diverse ma alla fine confluenti nel bacino accogliente a cui la nostra cultura si abbevera.